Il modus operandi utilizzato era sempre lo stesso. Con domande pretestuose cercava di distrarre il negoziante per poi arraffare i soldi in cassa. Adesso il ladro seriale, specializzato in colpi in attività commerciali, è stato beccato e denunciato dai carabinieri. Si tratta di un pregiudicato di origini campane, ma da tempo residente in Baldarno. Gli ultimi furti li aveva tentati in alcuni esercizi commerciali di Levanella e del centro storico di Montevarchi. In due casi era stato sorpreso sul fatto dalle stesse vittime e messo in fuga. In un terzo colpo, da alcune centinaia di euro, a danno di un parrucchiere del centro Montevarchino, era riuscito a rubare il portafogli contenente denaro e svadiate tessere personali. I militari hanno così accertato che in tutti e tre casi il soggetto coinvolto era il medesimo, stesso modo di agire ed identica la descrizione fornita dalle parti offese. Nel giro di poche ore, anche grazie alle informazioni dei testimoni e all'analisi delle immagini dei circuiti di video e sorveglianza, gli investigatori hanno identificato il soggetto, peraltro già gravato da svariati analoghi precedenti. L'uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per furto aggravato e per duplice tentato furto aggravato.